Anticipazione imposta al sole, giovedì 23 luglio 2020. Eugenio cerca di capire informazioni sul boss Mariano mettendo sotto torchio l'unica persona in grado di aiutarlo concretamente e ovvero Alberto Paladini. Quest'ultimo intanto deve capire come agire. Raccontare quello che sa il magistrato mettendo a rischio la sua incolumità e quella dei suoi cari? Oppure gli conviene tacere? Filippo nel frattempo cerca il sostegno di Serena nella sua battaglia contro Roberto ma la Cirillo sorprendentemente è molto confusa a riguardo. Inoltre c'è Leonardo Arena di mezzo. Nel giorno del suo compleanno Viola riceve una grande dimostrazione d'amore da parte della sua famiglia. Un sorriso così compare finalmente sul suo volto dopo giorni e giorni di forte tensione.